Il processo d'appello era fissato per mercoledì 9 agosto, con un ricorso già preparato dai legali messi a disposizione dal Ministero degli Esteri italiano. Ma l'udienza non si svolgerà, dato che le autorità saudite hanno rilevato ragioni procedurali che la faranno saltare senza che sia stato fissato un nuovo confronto di Ilaria De Rosa con i giudici. Resta così in carcere a Jedda, la 24-enne assistente di volo trevigiana di Resana, arrestata il 5 maggio scorso in Arabia Saudita e condannata in primo grado a sei mesi di reclusione per possesso di sostanze stupefacenti, l'espulsione appena espiata e il divieto di ingresso in Arabia Saudita per un periodo non definito, potenzialmente limitato ma anche in base alla legge locale permanente. Gli avvocati di Ilaria avevano presentato istanza a Re Saudita per ottenere la scarcerazione anticipata rispetto al 6 novembre, fine della pena prevista, in base al basso quantitativo di hashish contestato dal Tribunale. Ma la massima autorità ancora non si è pronunciata sulla richiesta di grazia. La farnesina ha il delicato compito di provare a risolvere il caso per via diplomatica e far rientrare in Italia prima possibile la giovane assistente di volo con la fedina penale pulita. Ilaria De Rosa sarebbe in carcere per uno spinello trovato dalla polizia, nascosto nel suo reggiseno, fermata durante una serata in compagnia con tre amici locali. Un tunesino, un egiziano e un saudita, tutti condannati a un anno e mezzo di reclusione, ma che in aula l'avevano scagionata, testimoniando come lei non avesse droga con sé. Il console generale a Jedda, Leonardo Maria Costa, un ambasciatore italiano a Riad, Roberto Cantone, le hanno fatto visita per la quinta volta non più tardi di domenica scorsa per aggiornarla sulla sua situazione. L'hanno trovata in buone condizioni di salute, pur se provata e stanca da circa tre mesi di detenzione, pur essendosi proclamata del tutto estranea ai fatti contestati. Oltretutto per il suo lavoro di hostess con l'Avion Express, compagnia aerea lituana, era sottoposta a continui test tossicologici.